A Montepagano è quasi tutto pronto per l'inaugurazione, il via libero soprattutto per la nuova passeggiata sul Belvedere, appunto sullo splendido Belvedere di Montepagano, un lavoro importante a vice sindaco a Marcone che possiamo dire darà il via alla stagione turistica appunto nel borgo di Montepagano. Sì, un'opera importante, come ben detto, un'opera che è stata conclusa qualche settimana fa con la posa dell'asfalto, nei prossimi giorni appena il tempo lo permetterà verrà posta la dovuta segnaletica a terra quindi è un'opera che riqualifica anche in un certo senso il borgo di Montepagano e quindi permette alla nostra città di avere un punto di vista dall'alto di tutto il territorio veramente importante. Un'opera di un milione di euro, un finanziamento che sicuramente è stato ereditato dalla precedente amministrazione che noi abbiamo portato avanti nonostante le difficoltà che ci sono state sul caro materiale, sul caro prezzi sulle difficoltà che la guerra e altre situazioni internazionali hanno portato ma noi nonostante tutto siamo riusciti a completare l'opera in poco tempo e la riconsegniamo presto alla città di Roseto. Grazie Grazie Grazie